eccoci live anche questo 9 agosto duemilaventitré l'anniversario appunto del bombardamento nucleare su Nagasaki saluto ho già scritto chi ci segue online anche chi ci segue offline Luca Signorelli Piero Fiorentini Fabrizio Sebastiani eh Michele Sesta Valentina Penza Fono Tommaso S Wilson Lorenzo Balone e Marco Casolino che sono io eh grazie a tutti e anche qui come abbiamo fatto due giorni fa per eh la bomba appunto per quella bomba che che distrusse Hiroshima ci concentreremo soprattutto sugli aspetti tecnici che come ha costruito questa bomba anche perché poi sono quelli che hanno avuto più influenza nello sviluppo poi delle armi nucleari che magari andremo a trattare più in avanti ovviamente eh insomma non bisogna dimenticarsi che appunto fu buttata su Nagasaki varie decine di migliaia di morti c'è a boh di Sattva il numero è dibattuto eh sia su Hiroshima che su Nagasaki ma insomma complessivamente siamo più di centomila morti che va comunque messo in in confrontato con il firebombing classico del sul Giappone solo Togia hanno fatto centoventimila morti quindi anche lì se ci riusciamo eh difficile paragonare se si è morto per una bomba nucleare o per l'incendio ma insomma eh vanno anche messi in nel contesto per capire poi gli effetti sulla fine della guerra e le implicazioni per l'Unione Sovietica questa questa prima era la la foto vista da un dagli aerei che uno aveva buttato la bomba gli altri controllavano l'effetto le facevano le riprese e così via questa è presa da circa dieci chilometri di distanza eh appunto è il fungo nucleare che si innalza anche questa bomba è stata fatta scoppiare nell'atmosfera da poche centinaia di metri in maniera sì da massimizzare il danno sugli edifici ma da non contaminare il suolo e quindi eh se ti trovi lontano abbastanza dall'epicentro se non venivi schiacciato bruciato carbonizzato vaporizzato e così via ehm e la radiazione che prendeva era relativamente piccola alla fine il terreno non era contaminato e potevi continuare in qualche maniera a campare il problema più grosso e anche questo è un argomento a parte di Roshio e Nagasaki che la censura americana poi pose sui malati e impedirono di 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 curarli semplicemente monitoravano il decorso del del dell'effetto della radiazione se c'erano tumori e così via ma gli interventi curativi furono ridotti al minimo e ci fu una forte censura sugli articoli sui libri e così via questa è vista sempre da un altro B29 appunto il fungo nucleare alto una decina di chilometri anche se eh in realtà ciao Lobo in realtà il problema è che fuori del contesto della prospettiva non si riesce a giudicare la grandezza dei funghi nucleari sono tutti uguali fondamentalmente perché in realtà dipende dalla fluidodinamica dal numero di Reynolds e così via essenzialmente un fungo piccolo di 20 chilotoni come questo è identico come forma a un fungo gigantesco di qualche megatone quindi poi magari di nuovo in un'altra puntata vedremo in scala la differenza tra le armi a fissione come queste quelle a fissione comunque sia il lavoro suo l'ha fatto nel male e quindi questo è ground zero dopo il bombardamento questo è il fiume due chilometri questa è la scala un chilometro due chilometri prima e dopo appunto completamente raso al suono la città con svariate decine di migliaia eh di morti la cosa l'accennavo l'altra volta la cosa eh triste su tutto il resto ciao David eh è che anche Nagasaki avrebbe potuto avere il suo atom dom ossia il suo monumento al bombardamento nucleare era la cattedrale di Huracani in realtà ehm Nagasaki era il centro dove c'erano più eh cristiani cattolici del Giappone per motivi storici perché era lì dove era consentito nel nel secento sotto lo sciogunato il commercio con con l'estero cioè con i paesi europei eh si era stabilita una forte comunità di 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 cristiani molti dei quali poi furono uccisi dallo sciogun per motivi non mi ammazzano gli storici non diversi da quelli per cui venivano perseguitati sotto ehm i romani perché essenzialmente se il Dio è unico e quello cristiano è l'unico vero Dio allora l'imperatore chi è e quindi eh insomma non 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 va bene eh ciao Peppino e la cartetaria di Huracani fu bombardata fu distrutta e poi fu però eh appunto questa c'è una foto questa qui non so di che annoi ma questa del 46 appunto questa è proprio quella prima probabilmente più tarda ma poi fu completamente raso al suolo distrutta invece di lasciarla di nuovo non è che serve un monito eh perché comunque i danni sono quelli che sono stati fatti ma comunque un sembolo un segno tangibile un un effetto realistico di quello che è stato il bombardamento nucleare avrebbe sicuramente eh fatto eh del bene nel senso che avrebbe comunque ribadito gli effetti devastanti delle armi nucleari rimangono le statue le statue queste agnesi sempre di Urakami che è alle alle Nazioni Unite e altre statue ma insomma l'impatto non ha non c'è lo stesso impatto della Tom Dome ehm questa qui è la la sempre Nagasaki visto dell'università l'università l'ospedale appunto l'università dopo il bombardamento rimangono in piedi appunto le strutture eh in cemento armato ma prende tutto distrutto e l'università ha un ruolo importante perché appunto se c'è un lascito magari non tangibile ma eh tangibile uguale ma insomma non come sotto forma di mattoni è quello che è stato lasciato da da Takashi Nagai eh lui scrisse le le campane di Nagasaki fu originalmente censurato lui perse moglie e figlia se non erro nel bombardamento e morì poi pure lui di tumore successivamente era anche lui cristiano cattolico e eh scrisse appunto questo libro sulle campane di Nagasaki su bombardamento censurato fu permesso questa pubblicazione solo negli anni cinquanta quando fu aggiunto al libro un ehm dei capitoli sulle barbarie con più delle giapponesi nelle Filippine che va benissimo perché i giapponesi hanno fatto delle cose in confronto ai quali eh i nazisti hanno delle personcine per bene soprattutto con l'unità sette tre uno in Cina però figlio mio sta andando fuori tema questo è un bombardamento nucleare non c'entra niente infatti poi nelle varie di stampe non è stato incluso e questo ha avuto un effetto importantissimo sia nel 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 sul Giappone perché comunque sia in un contesto in cui non veniva veniva censurato e non veniva riconosciuto alla malattia da radiazione e così via gli hibakisha cioè quelli colpiti dalla radiazione erano degli appestati non si sapeva nemmeno che non potevano assolutamente contaminare l'altra gente venivano trattati come persone di 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 serie B sì c'era anche un sacco di prigioni di guerra sia sia mh sia degli tra gli alleati che con che con che che tantissimi coreani tantissimi tantissimi stranieri saluto anche Davide Francesco Russo e Rosa e appunto eh quindi insomma vabbè quando butti una bomba anche sul neanche anche a Tokyo non è che quando bombardarono c'era molta distensione anche Dresda in cui poi si salvò eh Vonnegut e scrisse Mattatoglio numero 5 resta il fatto che questo libro ha un profondo impatto così come anche Sadako la ragazzina che morì a 16 anni di locemia e quella appunto delle delle mille gru che voleva fare mille gru per appunto per non per esaltare il suo desiderio di non morire di locemia fu quella che fece cambiare l'approccio della popolazione giapponese stessa sul fatto di delle persone appunto che erano state colpite dalle dalle armi nucleari e che erano vittime e non appestati eh c'è un ci sono vari film appunto le campagne di Nagasaki questo qui è Nagasaki no no canè e e poi c'è un libro che ripercorre appunto la vita di Takashi Nagai una canzone per Nagasaki c'è anche ecco vale la pena citare due due film di animazione Nagasaki 1945 che non sono riuscito a vederlo sono le 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 campane del dell'Angelus in che sembra la storia di Takashi ma non ho capito se è completamente biografico e solo ispirata perché comunque un medico che si trova appunto nel bombardamento di Nagasaki e così via e questo qui che invece è Hiroshima è Gen senza scape senza scarte Anche lì basato sul manga il il l'animazione è particolarmente brutale nel come era mostra giustamente l'effetto dell'esplosione nucleare su 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 sulle vittime e quindi eh se possibile recuperate questo è più facile da recuperare questo non non è chiarissimo su youtube c'è un il trailer che comunque rende l'idea ma non sono riuscito a trovare il film e sì certo ovviamente no 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 non fu scelta no questo no la città non fu scelta anche per quello perché sarebbe stata una sottigliezza eccessiva gli americani magari neanche sapevano che c'era una comunità cattolica lì e comunque non era il primo bersaglio nel secondo bersaglio eh e perché era nuvoloso il primo bersaglio adesso non mi ricordo qual è se qualcuno Luca sicuramente lo sa io lo mette nei commenti era nuvoloso lì e toccò a Nagasaki e comunque molto sono tutti argomenti molto molto dibattuti si anche involvere in viene citata questa cosa qui e l'effetto appunto per far fermare la guerra di appunto dei due bombardamenti nucleari è dibattuto legato anche al fatto di quello del ruolo dell'entrata in guerra dell'unione sovietica e il rischio che si sarebbero presi l'occaido un po' come avevano spartito la Germania e comunque nonostante questo un gruppo di militari volevano comunque distruggere il disco inciso dall'imperatore in cui si accettava risa incondizionata quindi è tutto un argomento estremamente dibattuto e magari cercheremo di toccare per quanto io poi non essendo storico è molto molto più rischioso qua invece mi trovo non dico più a mio agio perché comunque è un argomento complicato ma insomma è più farina del mio sacco Fat Man vediamo com'è fatta il ciccione un Homer Simpson perché appunto ha una struttura sferoidale legata appunto al tipo di implosione mentre quell'altra appunto era a tubo e semplicemente fatta con un raro questa era fatta di plutonio anche se vediamo plutonio abbastanza complicato 3 metri e 2 per un metro e 53 di diametro 4 kg 5 tonnellate anche qua di nuovo 5 tonnellate ti fanno con tutto inclusa l'antenna l'alettone di stabilitazione e così via e quindi la palla vera e propria sono pochi decimetri fu scelta perché aveva una scelta sì dunque la questione della topografia sì aveva una scelta di topografia diversa da Hiroshima e per concettazione di industria nella valle di Kawasaki anche se appunto anche qui il fatto che poi era montuosa non permise di studiare perché comunque gli interessava capire l'effetto del della bomba nucleare tanto più che tutte le città potenziali bersaglie del bombardamento nucleare furono lasciate intoccate ai bombardamenti classici proprio perché bisognava avere una una misura tra virgolette pulita come è fatta Fat Man eccola qua desnuda e la parte sferoidale al centro della quale c'è la parte sferoidale al centro della quale c'è la sfera di plutonio è questa qui a sinistra qui c'è tutta l'elettronica e comunque un'elettronica assolutamente complicata e di tutto rispetto che vedremo tra pochissimo questa qui è la sfera via via che viene assemblata questa è su Trinity in realtà Fat Man Mark III è il terzo tipo è essenzialmente identica con infinite microscopiche variazioni ma insomma al primo ordine è identica nel test di Trinity quello famoso di Oppenheimer sono diventate il distruttore di mondi e così via in quella buttarla su Nagasaki e poi in quelle che poi verranno sviluppate si evolveranno nel Mark IV che furono poi il primo stockpile il primo armamentario nucleare degli Stati Uniti qui i vari fisici stanno assemblando la parte sferoidale che è la parte più critica questa è l'elettronica notate quindi questa la qui è il naso ve lo rimetto questo questa parte qui il blocco X è il naso con tutta l'elettronica di controllo il punto essenziale che voi dovete far scattare 32 interruttori di potenza per far sì che l'esplosione sia sferica dovete comprimere questa sfera di plutonio in maniera assolutamente uniforme altrimenti l'esplosione non non ha l'efficienza che volete e quindi tutto deve essere temporizzato alla frazione di millisecondo al microsecondo altrimenti non funziona niente quindi ci sono tutta una serie di questi secondi condensatori in basso ci sono tutta una serie di interruttori basati su le candele le spark gap anche interruttori a mercurio e così via tutto estremamente raffinato e tutto estremamente complesso appunto per far sì che l'esplosione sia un'esplosione sferica e vada a comprimere l'oggetto. Se vi interessa come bibliografia questo qui Atom Bombs la top secret inside story del Little Boy Fat Man è quello fatto meglio nel senso che è quello più tecnico e si concentra sugli aspetti appunto costruttivi delle bombe nucleari poi ce ne sono tantissimi altri sullo Salamos il progetto Manhattan le bombe nucleari e così via sono più di tipo storico politico quindi magari anche più interessante e al Fat Man è preso dal falcone martesa interessante fin fin man che era l'originale tubo in cui volevano fare quella plutonio era presa da una serie di romanzi hardboiled e di film Fat Man non la sapevo sta cosa comunque sia questa è la bomba appunto la parte essenziale quella sferica tutta la parte esterna sono esplosivi ognuno di questi oggetti gialli qui è un in uno dei trentadue inneschi e fatto a pallone come il pallone da calcio cosa che idri quindi pentagoni ed esagoni in maniera appunto da avere un'esplosione uniforme e la parte che si vuole andare a comprimere è la parte rossa quindi tutto questo in realtà è per comprimere la sfera di plutonio che è circa dieci centimetri di diametro poi c'è fuori una parte di alluminio che è questa qui e in nero c'è la parte di uranio adesso vediamo in dettaglio come era fatta appunto questa è la parte zoomata della bomba è molto più complessa di quello che si crede ognuno di questi oggetti ha un suo ruolo ovviamente e ha richiesto studi e studi calcoli al calcolatore che era fatto con le schede perforate Richard Feynman si era inventato un modo per colorarli in maniera da non perdersene seguire eccetera eccetera ma insomma non fu assolutamente banale sia la parte chimica c'era un un esperto di esplosivi che doveva far sì appunto che l'esplosione fosse perfettamente sferica quindi vedete qui che è più vicino questa qui più lento e quindi viaggia per un periodo più lungo in maniera data al tempo a questo qui che è più veloce ma deve percorrere più tempo qui di arrivare assieme qui e comprimere questo altro esplosivo che va a comprimere l'alluminio che va a comprimere l'uranio che comprime il plutonio e tutta la baracca è appunto abbastanza complicata nel senso che nel film di nona si parla delle progettazioni delle bombe dunque vale la pena andare a vedere sicuramente sì mio figlio l'ha visto tipo 4 o 5 volte ma vabbè ma lui sta in fissa con Nolan e va bene sì sì parla tutta la parte del progettazione delle bombe fermi è trattato un po' troppo come persona all'altra ma insomma la questione tecnica poi credo che sia però più su openheimer che sulla progettazione delle bombe nel senso che comunque lì l'idea il problema è la figura di openheimer e da quello che ho capito perché qua in giappone non esce e dicono che non è chiaro se uscirà o no perché fa impressione e soprattutto sul maccartismo in cui lui come tanti altri fu cancellato appunto in virtù di tutta una serie di censure legate alla paventata terrore dei rossi dei comunisti ma in realtà era un modo per far fuori tutti quelli che erano politicamente scomodi questa qui appunto che vediamo qua in color latte è la parte di esplosivo che deve andare a comprimere la sfera di alluminio la sfera di alluminio al suo centro questo cilindro a sua volta di questo cilindro la parte cilindrica è di uranio che si innesta in una sfera di uranio ovviamente con un cilindro cavi in maniera davvero una sfera perfetta comunque quasi perfetta di uranio al cui interno di questo cilindro c'è appunto una sfera di plutonio e all'interno della sfera di plutonio c'è un innesco di polonio 210 beriglio il polonio 210 è quello con cui hanno ammazzato l'itvinienco decade solo alfa per quello poi non riuscivano a misurare l'effetto delle radiazioni sull'itvinienco in questo caso è essenzialmente una specie di super accendino da per innescare l'esplosione del plutonio già pre innescata dall'uranio che fa al doppio ruolo sia di rallentare l'esplosione ed evitare che si perda tutto sia poi di produrre neutroni e poi quindi poi fare l'esplosione un terzo dell'esplosione nucleare lo vedremo tra pochissimo viene dall'uranio quindi un oggetto abbastanza complesso perché il cilindro è questo qui perché questo lo metti dopo perché non vuoi essere sicuro che non ti scoppia tutto mentre la sta trasportando la sta portando in giro eccetera eccetera quindi quando lo assembli lo vuoi mettere dopo non c'è il rischio di un'esplosione come quella del cilindro all'uranio perché in quel caso lì poteva veramente andare e avere una massa critica qui visto che quello che si vuole raggiungere una densità critica il rischio non c'è ma il rischio di 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 avere molta rilascio di radiazione e magari un'esplosione ridotta chimica c'era e quindi comunque sia questa viene messa viene messa dopo questo di questo disegno qui era quello fatto dai Corring e Rosenberg tra le varie cose che avevano appunto i vari segreti che avevano passato avevano passato al ai sovietici questo è lo schema fatto dai dai Rosenberg che poi furono uccisi e condannati a morte nel cinquantatré anche qua molto dibattuto la condanna a morte e appunto vedete questo qui è molto schematizzato per essenzialmente esplosione sferica dimensioni numeri alluminio uranio e plutonio fuchs che era un fisico teorico invece la scampò si fece vari anni di galera ma insomma la scampò fece un disegno molto più accurato ma era il mestiere suo in cui veniva descritta appunto l'innesco l'accensione dell'esplosivo conico in maniera da gotico se volete da innescare l'esplosione sferica e vari oggetti questo è trovato negli archivi del KGB e questo è ancora più divertente perché nel contesto è perché sempre negli archivi del KGB viene declassificata però ti dice guarda c'è una cosa sferica che non ti dico qual è il cancellato che comprime una cosa sferica che è cancellata pure quella che comprime un'altra cosa sferica cancellata che comprime un'altra cosa sferica cancellata e al centro c'è un iniziatore che è cancellato pure lui sai solo che questo qui è alluminio questo è uranio questo è plutonio però arrangiti questo nella parte declassificato ovviamente lui l'aveva scritto ed era tutto ben chiaro però nella parte quando si declassificavano queste cose venivano appunto redatte anche spesso i pdf vengono redatte e però si può cancellare perché ci aggiungono la barra nera dice fabrizio sebastiani dalle scienze le lezioni di openheimer è importante anche per i scienziati di oggi sì ma infatti lì il ruolo è più sull'appunto sul ruolo del della scienza nella politica e nel tempo di guerra e però soprattutto sulla cancel culture antelitteram del 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 macartismo eccola qua questa è la bomba via via che viene eh assemblata ehm questo qui non era la bomba definitiva infatti se vedete manca lo spazio per inserire il cilindro eh ma da un'idea delle dimensioni questa qui è la sfera di alluminio questo qui è l'esplosivo composto appunto da queste tasselli per avere l'esplosione sferica via via che viene assemblata sia un oggetto di questo genere qua eh vedete qui c'è lo spazio per inserire il cilindro eh di 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 eh alluminio uranio e e appunto al centro c'è il eh questo qui è il cilindro queste sono tutte foto prese dal da questo libro che vi ho citato prima questo qui è il cilindro è grosso più o meno così e largo di centimetro quindi più o meno così è il cilindro di uranio vedete il land cap gli estremi sono sferici perché vanno a completare la sfera di uranio 238 è depleted cioè questo deve avere meno uranio 233 eh eh 235 del 238 perché vuoi avere meno neutroni possibili perché vuoi che faccia all'inizio da ritardante sono misti Fabrizio metà di Trinity metà cioè no Trinity è il nome dell'esplosione del 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 appunto della dell'esplosione di Fat Man Mark III eh che è stata fatta scoppiare eh appunto nel Nuovo Messico sempre Fat Man Mark III però poi appunto queste alcuni sono di Trinity alcuni sono di 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 Nagasaki eh se prendete il libro c'è scritto io l'ho mischiata perché alla fine la costruzione della bomba è identica appunto quindi dai fini del di come è fatta la bomba non non cambia molto sapere chi chi è chi eh questa qui di nuovo stanno assemblando eccolo qua con estrema cautela inseriscono questa è la inseriscono il cilindro all'interno della sfera appunto non vuoi che ti scatta o così via eh questo qui poverino è Slotin Slotin era lo scienziato ricercatore polacco che dopo fine della guerra continuando a fare esperimenti con le sfere di 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 radioattive scivolò il cacciavite e mise mise supercritica senza esplosione anche lì le due sfere ma la reazione di nuovo anche senza esplosione si può morire tranquillamente con questi oggetti la reazione emessa dalle due sfere che si sono toccate eh fruttare da uccidere lui e credo un'altra persona in in pochi giorni anche questo demon core fu anche caso di un altro incidente sempre in quel periodo là e quindi poi ha fatto brillare in un altro esperimento di nuovo qui stanno assemblando la la sfera e e vediamo un po' come come appunto avviene in dettaglio eh l' l'esplosione aveva accennato prima e quindi questo viene preso da Wikipedia che comunque è uno dei pochi ehm punti dove viene trattato in maniera abbastanza comprensibile e completa tutta la le fasi e tutti i vari momenti dell'esplosione qui abbiamo l'innesco appunto trentadue inneschi che devono partire tutti quindi anche la lunghezza dei cavi deve essere la stessa non ci deve essere nessun ritardo perché deve tutto avvenire dentro eh il microsecondo fa quindi questo qui è il detonatore inizia l'esplosione in simultanea nei trentadue detonatori messi appunto in maniera sferica la l'esplosione eh e questo qui è l'esplosivo veloce questo qui è l'esplosivo più lente questo di nuovo è esplosivo veloce il punto qual è che voi partite da trentadue oggetti discreti cioè non avete un'esplosione sferica ci sono venti trentadue inneschi quindi avete un' esplosione sferica in questo esplosivo qui che si va propagando e qui deve raggiungere una distanza maggiore e quindi si deve muovere più velocemente mentre qui perché percorrono una distanza minore eh poi dovete arrivare insieme a questo punto qua e quindi lo spessore dell'esplosivo lente è maggiore in maniera appunto da iniziare un'esplosione sferica che questa qui anche se qui sembra lineare ma eh questa qui via via che si allarga è un'esplosione sferica che raggiunge l'esplosivo veloce in maniera uniforme e sferica se vi interessa appunto metà barato il ritratto di bario e così via ma comunque sia questo innesco qui finalmente avete creato la vostra esplosione sferica uniforme a quattro più che su tutti gli angoli arrivate sulla sfera di alluminio ora la sfera d'alluminio ecco qua la sfera d'alluminio eh lo spingitore eh scusce lo spingitore di 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 onda d'urto è è fatta di metallo perché non si voleva accoppiare direttamente l'esplosivo con la con l'uranio per evitare ehm turbolenza instabilità e oscillazione in questa maniera io ho una spinta di un materiale denso una spinta uniforme che qui in qualche maniera comprime e concentra in maniera molto più efficiente la mia e esplosione e vado a colpire appunto la una una c'è una eh guscio di boro che serve ad assorbire neutroni perché se io ho dei motori dispersi dall'uranio eh o dall'inizio della reazione nucleare questo li assorbe e ehm eh la la assorbe e mi evita il preinnesco tutto quello che si vuole evitare è un preinnesco che poi faccia fare fizzle c'era stato anche menzionato nei commenti della della bomba su Hiroshima se c'è un' esplosione troppo rapida eh e io non riesco a far bruciare tutto annescare bene la reazione nucleare in maniera esplosiva ho pochi centinaia di di chili o comunque un'esplosione trascurabile questo eh non lo non voglio né Pischi perché era vecchi un vecchio film con George Clooney c'erano i terroristi che hanno questo oggetto qui con la bomba sferica eccetera eccetera e loro disinnescano l'esplosione sferica appunto facendo saltare uno di questi tasselli qua e quindi l'esplosione non è più sferica si becca una quantità di reazione che secondo me poi muoiono ma comunque ai fini del film di Hollywood eh evitano l'esplosione nucleare e vi sono tutti felici e contenti non qui purtroppo non a non a Nagasaki il boro appunto assorbe i neutroni per evitare eh l'innesco eh passa attraverso l'uranio passa attraverso il plutonio e va a schiacciare il eh l'innesco fatto di polonio e e beriglio questa parte verde appunto è l'innesco fatto di 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 polonio e beriglio questo deve creare più ehm più 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 neutroni possibile per rendere super critica la la parte di plutonio che si stava schiacciando e quindi comunque stava avvicinandosi alla densità critica ma con questa super boost questa droga di 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 neutroni l'esplosione diventa molto ehm diventa molto più eh efficiente quindi qui hanno eh appunto c'è il plutonio 239-240 eh la fissione era già iniziata ma è eh in pochi istanti non riesce ad avere il boost che invece ottiene dal nucleo di polonio 210 e quindi la la fissione scoppia l'esplosione scoppia l'uranio che che nel frattempo appunto è uno smorzatore un dunque ha due ruoli eh sia di smorzatore fisico cioè eh essendo un oggetto molto denso e molto pesante evita che tutto salti chimicamente eh per aria e si allontani e ovviamente se si allontano i nuclei non ha più la reazione nucleare e poi eh e però quando hanno è iniziata la reazione nucleare e i neutroni vengono emessi li deve assorbire e rispire e rispingere in buona parte elasticamente cioè fanno tipo il pacinco visto che stiamo in tema giapponese un flipper li manda indietro certo una parte passano ma il grosso viene rispedito indietro e di nuovo eh rienergizza la reazione nucleare quando vi ricordate che questo qui era il duecento eh trento ehm trentotto quindi non è fissile ma è fissionabile e che vuol dire che non gli piacciono i neutroni lenti e li rimanda indietro e fa esplodere il plutonio ma gli piacciono i neutroni veloci e quindi quando gli arrivano quelli veloci dell'esplosione nucleare che sta iniziando qui invece eh esplode e ha voglia di esplode e quindi in quel caso eh una parte della reazione nucleare dell'esplosione nucleare viene dopo qualche frazione di di microsecondo nell'uranio tanto è più che appunto il trenta per cento dei ventuno chilotoni di di dell'esplosione di Nagasaki veniva dal 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 dall'uranio eh questo è un video eh del ovviamente non c'è la bomba al centro del dell'esplosione chimica appunto che vedete che eh viene innescata questa è l'esplosione sferica schiaccia tutto e avete l'esplosione iniziale quindi partita trentadue inneschi perché non era per niente ovvio che funzionasse questo è un'opera quanto mi hanno detto è raccontata bene cioè che c'era il chimico che diceva stai tranquillo che l'esplosione della faccia sferica c'è pure una scommessa di mezzo di 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 questo è Trinity appunto 16 luglio 1945 quindi tre settimane prima essenzialmente una volta che era sicuro che funzionava e che si potevano buttare insomma non hanno perso tempo e che di nuovo è anche corretto perché comunque c'era la guerra nel frattempo Iwo Jima e Okinawa avevano fatto più morti al al suolo e tra la popolazione di tutta la guerra del pacifico precedente anche qui siamo intorno ai venti chilotoni Fermi c'era Feynman pischelletto Fermi ovviamente Oppenheimer Fermi lascia cadere dei fogli di carta dei pezzettini di carta quando arriva l'onda d'urto vede di quanto si spostano i fogli di carta e siccome Fermi diceva sarà tre dieci e venti chilotoni appunto siccome Fermi c'è zecca eh questa qui è l'assembly eh del del questo appunto è su Trinity questa viene messa su non c'è tutta la parte della torre fisica no perché della della bomba fisica perché la metti sulla torre la fai scoppiare quello che che interessa essere sicuri che questi famigerati trentadue inneschi siano contemporanei vedete qui è la scatola che divide trentadue poi va andava al nel caso della bomba alla parte eh dell'elettronica qui va qui dietro e perché appunto deve essere tutto sincrono e se tu fai solo una saldatura leggermente più lunga o leggermente diversa eh rischi di inficiare tutto quindi eh Nagasaki ventuno chilotoni Nagasaki Mark III eh viene utilizzata anche nelle nelle bombe successive vi faccio vedere tra pochissimo ma essenzialmente era molto complicato da gestire quindi poi si passa subito alla Mark IV più compatta in servizio fino al cinquantatré e ne hanno fatte anche qui si sono dati da fare subito velocemente in quel cinquecentocinquanta di queste di queste bombe qui anche se appunto era estremamente complicato anche qua fare una guerra nucleare con queste perché le dovevi si buttare dall'aero tipo dottor stranamore ma era le batterie andavano sostituire insomma non era non era per niente semplice e appunto crossroads invece fanno scoppiare eh nel 46 grossomodo un anno di distanza due esplosioni nucleari usando le Mark III eh appunto questa è una delle due non so dire quale eh Ebole e Baker eh il primo luglio del 46 il 25 luglio del 46 la prima è Jill dall'altra Elena di Bichini nel famigerato eh atolo di Bichini eh contaminato la gente non lo mandata via poi super contaminato quando hanno fatto scoppiare le bombe a fusione nucleare anche qui l'interesse era di capire l'effetto della bomba nucleare sulla flotta di navi messe lì eh alcune delle quali senza equipaggio quelle più vicine ma molte delle quali con equipaggio e quindi con cavi umane anche quelle a cui fu negato se volete per par condicio ehm il trattamento medico comunque di avere quello che adesso si chiamerebbe consenso informato questa qui era la disposizione delle navi più vicine alla 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 flotta all'esplosione della bomba e eh subirono vari effetti alcune presero fuoco e così via queste senza senza equipaggio ma insomma anche qua si facevano allegramente esperimenti con con cavi umane anche con con animali eh Oppenheimer si opposa a questo qui si rifiutò di 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 andare a vedere queste 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 test qua dicendo che erano assolutamente inutili eh c'è da dire che questa fu leggermente fuori fuori posizione quindi eh era sopra la flotta 150 metri ma non esattamente dove si dove voleva ma insomma va bene così questa fu fatta esplodere sott'acqua quindi il disastro fu che fu prodotto un'enorme quantità di acqua marina radioattiva che fu spruzzata vaporizzata aereo solizzata e quindi tutti quelli che stavano lì vicino e anche lì lontano si presero sta acqua radioattiva appunto quello che si dice sempre Hiroshi e Nagasaki una cosa che hanno fatto giusta è farla scoppiare non al suolo o vicino al suolo ma in alto sì per massimizzare il danno ma anche per durare al minimo la contaminazione nel caso dell'acqua radioattiva eh sì è vero che l'acqua è radioattiva di suo per il carbonio quattordici e il potasso quaranta ma insomma la bomba nucleare che ti spruzza tutta la radioattività in aria non non fa bene e ovviamente c'è un abisso tra la contaminazione di questa e la contaminazione di Fugoscema che tra l'altro tra breve dovranno buttare l'acqua di Fugoscema al mare eh vabbè qui si parte con la parte di censura di Hiroshi e Nagasaki ma questo conviene trattarlo con estrema in un altro in un altro eh momento quello appunto che mi preveva dire che appunto tutta la costruzione della del di quella affissione del plutonio fu una cosa estremamente complicata che funzionò nel bene o nel male nel male per chi stava in Nagasaki eh nel bene chi per chi non morì nello sbarco nel Giappone e rimane comunque appunto assolutamente dibattuto eh questo è quanto vi ringrazio dell'ascolto e ovviamente ci ritroviamo nelle prossime eh nelle prossime puntate. Grazie ancora e arrivederci. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.